Eee what's up a tutti c'è ormai benvenuti raggio carina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Vi ricordo ragazzi che il vostro sostiene con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa abbiamo incominciato insieme questo fantastico viaggio Assieme a Lee e a Clementine e a tutti i personaggi ovviamente che incontreremo nel corso di questa prima stagione Ho visto che diversi di voi appunto sono stati contenti di questa serie Per cui io ringrazio come sempre di cuore davvero tutti quelli che la sostengono E che dire ragazzi abbiamo conosciuto Lee, te l'abbiamo conosciuto sulla volante di una polizia che lo stava ascoltando appunto in prigione Perché è stato accusato di omicidio per qualche motivo, non sappiamo ancora di preciso perché Fatto sta che l'apocalisse zombie ha avuto inizio e Lee alla fine ha trovato Clementine Una dolcissima bambina che purtroppo è rimasta sola, che spera ancora di rivedere i suoi genitori E alla fine ci siamo ritrovati nella fattoria di alcune persone che abbiamo incrociato per la via Adesso abbiamo conosciuto Kenny e la sua famiglia Hey, get up! Ok, salvataggio ci ha fatto ricominciare da qui ragazzi, la prossima volta Farò attenzione alla rotellina dell'autosalvataggio e ringrazio chiunque mi abbia dato indicazioni proprio su questa funzione No offence! There's a tractor and everything! I di conseguenza utoria limitations We'd better get going or we won't hear the end of it That's my boy, Ken junior they call him duck tho Dock? Dock? Si, n'è nulla di lui. C'è un'acqua di un'acqua di un'acqua di un'acqua, sai? C'è un valore trattato, inoltre. Non città. Ma, infatti, credo che è perché è come un bagno di un bagno di cammini. D'accordo! Ha fatto un'acqua con entusiasmo. La parola è che tu stai a Macon. La famiglia è da lì. Ma, Macon è iniziato. E, personalmente, avrei apprezzato la compagnia di un ragazzo che può riuscire un paio di ragazze, se deve. La volta scorsa avevo risposto, forse. Vediamo come si mettono le cose. Si, esatto, era la fattoria di questo Hershel. Sì, esatto, era la fattoria di questo Hershel. Honey, Duck, questo è Lee. E, ehm, qual'è la nonna? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I wanna build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Okay, ci eravamo lasciati qui la volta scorsa. Come vi dicevo un attimo fa, ragazzi, evidentemente la funzione di autosalvataggio c'è soprattutto all'inizio di nuove cutscene. Quindi la prossima volta magari, ragazzi, interromperò appunto l'episodio prima di vedere un'altra cutscene. Così evitiamo di poi rivedere sempre le stesse cose. Quindi andiamo da Kenny, ragazzi. Vi ho detto la volta scorsa una delle poche cose che ricordo di questo gioco è che Kenny appunto era uno dei miei personaggi preferiti. Qual'è il tuo piano, scusa? Siamo... Siamo così sicuri riguardo i vaccini, scusate. Vabbè, abbiamo scoperto che quindi Kenny ha una barca. Quindi magari comunque restare amici con lui potrebbe non essere una cosa tanto malvagia. Serve aiuto? No, credo che ho capito. Sto bene. Sto bene. Vabbè, questo c'ha ragione Kenny. Comunque Clementine adesso è con noi. E non è detto che appunto i suoi genitori riusciremo a trovarli. Quindi in quel caso ovviamente... Clementine, ragazzi, resterebbe affidata a noi. Quindi quello che dice Kenny, sei sicuro di riuscire a prenderti cura di una bambina? Vuole assicurarsi di questo. Com'è stato, figlio? Buono. Buono, credo. Cachi ha una sorella qui a Memphis. Stavamo tornando a visitarla. Stavamo in una stagione di gas e un uomo ha prenduto il mio figlio. Pensavo che lo stavolta. Stavo con l'uomo in circa due secondi e... Cristo. È solo fortunato che ero qui. Svevamo molti cittadini prima che stavolvamo su Herschel. Ma... Siamo una famiglia difficile, Lee. Non c'è nulla che farà noi. Sì. Dimostrato interesse per la sua famiglia. Vabbè, ci sta. Comunque conosci nuova gente, ovviamente cerchi di socializzare un attimo. Anche perché in un mondo del genere, ragazzi, comunque è importante mantenere rapporti con le altre persone. Bisogna essere fortunati a incontrare le persone giuste, ovviamente. Quello che dice Kenny, niente riesce a turbarci. E che comunque, ragazzi, in un mondo del genere, secondo me, prima o poi qualcosa che ti turba sempre succede, eh. Cosa c'è qui, allora? Alline. Ok. Qualche altro abbiamo. Do you think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up, good. Ok. Beh, comunque un lavoro che richiede un po' di tempo, eh. Sean's still working on that fence. Sì. Ha il trattore. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US farm bill, though. I'm good. Grazie, anche no. Tientele per te. How are you doing, Doc? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Che carino, Doc. Parliamo un po' più, vediamo cosa ha da dirci. Serve una mano? Per caso. That'd be great. If you could cut those two byes to length, that'd sure speed things up. Ok. Sicuramente, amico. Mi metto immediatamente al lavoro. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. No shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. Uh. Purtroppo sì. A volte è questione di uccidere o essere uccisi. Sometimes it's kill or be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? No, not too close with my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need to cut for now. Thanks. Ok. Figurati Sean. And Sean, thanks again for the ride. No problem. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Ok, allora andiamo a dare una manina ad Herschel che non mi sembra molto entusiasta appunto di avere tanta gente qui nella fattoria. Forse non ha neanche tutti i torti. Eh, raga, in queste situazioni è difficile giudicare i comportamenti comunque perché magari vuole semplicemente tenere la sua di famiglia al sicuro. Ah, mannaggia. Ciao, Herschel. Ciao, caro. Ti posso aiutare. Mi sono fatto dare un passaggio. I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm, well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Huh, had you told me 20 years ago I'd still be doing this I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to? Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Eh, sono argomenti delicate eh. I miei genitori sono a Macon. 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 Come si tratta? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities. Or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Oh, what the fuck? Oh, shoo. Okay, my gun. No, no. Non ho capito. Oh, oh, oh. No, shoo. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Oh, merda ragazzi. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. merda e no non incominciamo con ste cose però che palle cioè come fai a scegliere una situazione del genere io parlo proprio anche nella realtà ragazzi cioè da un lato ci sta un bambino e quindi io penso che purtroppo ragazzi istintivamente uno vada dal più indifeso credo quindi di regola magari uno per istinto salva il primo il bambino però dall'altro comunque ci sta sto povero ragazzo che voglio di non ha fatto niente di male ovviamente per crepare così tra l'altro tra l'altro già Herschel ragazzi c'ha gli zebedei un po' girati con noi io non ho capito perché in più adesso dobbiamo scegliere di salvare Duck il bambino quindi sicuramente quasi sicuramente il povero Sean morirà e quindi Herschel ci caccerà tipo a calci nel sedere tipo per 10 chilometri non mi mancavano tanto sti giochi dove fare scelte è una cosa un pochettino spinosa temo ragazzi che salverò il bambino mi dispiace oddio non lo toccare è in bolla mamma santa stuposo quanta forza c'ha ma tra l'altro da dove sono arrivati qui Kenny Kenny no no Ah! Aaaaaaah! Get out. Mi sono fatto prendere dal panico Oh Gesù Mi sa che ho fatto la prima cacata ragazzi di sta serie Perché se avessi saputo che Kenny sarebbe arrivato ovviamente ad aiutare suo figlio Probabilmente avrei potuto salvare Sean Che palle Porca vacca Sempre dura Per me è sempre dura regà fare scelte sbagliate Soprattutto se ci va di mezzo la vita degli altri Perché non c'è di certi personaggi Mamma mia Quindi siamo arrivati a Mecon ho capito bene Oddio non credo siano amichevoli Che poi spuntano sempre come funghi ragazzi E vabbè Oh via ecco ok qua le due dei spiuti e che abbiamo bambini E' tra un minuto. E' una stronta a punta. 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 Ma che ne sa? Hai visto il morso? E' una stronta a punta. No, sto pulando. Non c'è una punta. E' un'altra stronta a punta. Non lo sapevo! Abbiamo già visto questo accaduto. Non è stato mosso. In che lingua te lo devo dire? E' spaccagli il culo. E' mo' scusa, eh? E dai, ancora. Minchia. Se fosse tua figlia. Si va bene. Che cavolo il ragionamento è? E' un'altra stronta a punta. E' un'altra stronta a punta. E' un'altra stronta a punta. E' un'altra stronta. È un'altra stronta. Che è tra l'aria. Probabilmente. Voi, non c'è il ragione. C'è così la scuola. Lui c'è solo il ragione per la scuola. E' un ragione. Silenzio. Non so che cavolo dire, ragazzi. Cioè, insiste. No, no, fermalo. Non toccisci questo figlio. Non toccisci nessuno. Ho una piccola chiusa per proteggere qui, anche. Vuoi essere violento? Vabbè, vabbè, dovessi avere un plan di uccidermi, perché sono io, prima di nessuno di qui. Che c'è? Oh no, oh no. È lì che cade di nuovo. Ragazzi, lì non fa che accadere. No, no. Oh no. Oh no. E fattene. Oh, nessuno mi darà mano, eh? Grazie. Mi sa che Clementine se l'è fatta addosso, le fratelle. Oh no. Oh no. Oh no. Sì. Zitto un po' Che sparo? Oddio che è? Che è? Che ha? Ma che gli prende? Ah, adesso gli devo salvare la vita? Vabbè, in qualche modo ce la faremo Ah Allora, allora siamo a posto Conosci bene la città? Ok, allora siamo a posto Allora, guarda qui qui Allora, cosa vuoi? E tu? C'è Lily Allora, guarda lì Arrivare un buon cuore, questi bambi lavorano a avervi la tua medicina C'è sì E tu? Prendi un cuore a quella fronte dalle Tu è il nostro porto È Doug Tu ti metti E io... La Carly Ok, Carly Tu ti metti con Doug quando si vede Per ora, prendi un po' di resta Le hai raggiunto Tu è un bel giro Mi piace di questo Tu lo sanno Tu hai raggiunto Now get him those pills Ok Allora Recuperiamo un attimo di sanità E' successo un delirio ragazzi Veramente Cioè si passa dal Che non succeda nulla Oddio Non so che cavolo fare Il povero Sean è morto Perché ho fatto una scelta sbagliata E ok Perfetto Siamo riusciti ad arrivare a Mekon Entriamo in questa farmacia Succede il macello Ci sta questo qua che urla Sbrate Blablabla Adesso Tocco il cuore Ho bisogno delle pillole E gliele devo pure andare a prendere Va bene Andremo a prenderle Che cosa c'è qua Ah si era la scatola Forse per delle donazioni O robe simili Donazioni in cibo Che cosa ho preso Ah una barretta Una barretta energetica Io penso che la darò Clem ragazzi C'è una rado qua Una radio Non posso farla funzionare Però Qui Devo vedere Ok Magari riusciamo ad avere qualche notizia dal mondo esterno ragazzi Vabbè qua c'è il tasto del volume Il tasto power Però Si è detto che non funziona Ovviamente c'è qualcos'altro che non va Ok Qui cosa c'è? L'antenna Ma non credo che dipenda dall'antenna Perché non si accende proprio È diverso Non ci saranno le batterie Ah ok Eh Se ne riesco a trovare un paio Dei aborto Semplice Scusa? Avrai tipo Già più di 30 anni Non hai mai visto un paio di batteri invitati No vabbè questa no Non può essere Dai non può essere Qua niente di interessante C'ho da Certo come no Neanche morto No 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 Devo andare a prendere le pillole No non ora Scusa Devo ancora andare a cercare le pillole per il moribondo Di là Ci manca solo e ci mettiamo contro la figlia Che già sembra abbastanza scazzata E clam 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 Ciao piccoletta Tieni amore Mi sembra il minimo ragazzi Allora Bancomast Sì ma tanto ormai Cioè di sti tempi Bancomast Soldi Con tanti o soldi O quello che è Serve a una mazza ragazzi Barra energetica E abbiamo trovato un'altra Dovremmo decidere probabilmente a chi darla E qua c'è altro Un'altra barra energetica Mi piace Mi piace Apri ufficio Allora Prima di aprire l'ufficio Un'altra barra energetica Magari le possiamo tenere a parte Non lo so Ne darò una a Duck ragazzi Ok per i ragazzi Allora Ritali di giornale Fotografie Come non me li ricordo Aspetta Non aveva detto che avevano una farmacia I genitori Quindi è la farmacia dei genitori Uh batteria E dobbiamo trovare soltanto un'altra Signore e signori Soltanto un'altra Ok Questo sarà il fratello Immagino Ok Il padre e la madre Va bene L'abbiamo fatto il giro della madonna Direi che adesso possiamo provare ad entrare Nell'ufficio Sempre che intanto Larry non stramazzi prima I can't I can't think about them in here Minchia Si erano rinchiusi qui Poverini ragazzi Mamma mia L'hanno ovviamente sbarrata Che c'è Clem? Te sembra che stiano tutti bene Proviamo davvero un parere Terzo Eh certo Eh certo Allora il bancale Lo possiamo muovere quindi Che c'è Che altro c'è? Eh vabbè c'è la porta alla farmacia Vediamo la scrivania ragazzi Ah pensavo avrebbe aperto i cassetti Invece è per spostare la scrivania Ok Perché è stata bloccata pure questa porta qui ragazzi Come va? Come va? Come va? Come va? Spostiamo questo affare Mi sa che è una cosa di cui Lee non parla molto volentieri ragazzi Beh ha fatto qualcosa alla moglie Cioè mi sembra Adesso non ricordo È preciso se Se hanno specificato qualcosa al riguardo Mi sembra proprio che c'entri sua moglie ragazzi Spero di no È solo che è complicato Spero di no È solo complicato E' solo Perché? È solo che è Mi sono cacciato in qualche guaio Però gli ho ucciso qualcuno Questo l'avevamo capito Sì Penso sia meglio che Gli altri non sappiano certi dettagli Cioè se venissero a sapere che Oddio Oh la miseria Dicevo se venissero a sapere Che lui prima di tutto ciò Ha ucciso qualcuno Beh non penso che sarebbero Tanto entusiasti Sì ma non penso che funzioni no Lenzuola Vediamo un po' ragazzi Che c'è un Tiago non affrontò con lui No, solo una foto. No, no. Chi? Grazie. Grazie. Porca paletta. Ci troveranno. C'è ragazzi. Ma che cosa? Ma che c'è? Io avevo appena, appena detto, è bene che nessuno sappia che cosa ho fatto. Arriva la tizia. Sono una giornalista. So perfettamente chi sei e che cosa hai fatto. E se dovessi creare problemi al gruppo ti caccio a calcin... Eh. Porca miseria. Quindi qualcuno sa che ho ucciso un senatore che andava a letto con mia moglie. Ok, almeno sappiamo che non ha ucciso la moglie, però ha ucciso l'amante della moglie. Benissimo. Noi dobbiamo ancora curare il ditino di Clem e qui c'è una cassetta, un kit di pronto soccorso. Vediamo un po' cosa c'è. Un bel cerottino e passa la paiura. Apri cassetto nel frattempo. Vediamo che cosa c'è. Oh, il telecomando della tv. Cercano il cassetto. Cercano il cassetto. Vabbè, ma tanto non funzionerà. Proviamo, ma non credo che funzioni. Questo è quello che ho pensato. Ovviamente. Questo era prevedibile. Vabbè, curiamo il dizino della povera Clem. Allora, guarda quella funzione. Ora. Si tratta. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ho preso il sciarotto. Sì, per favore. Ecco, ho fatto. Ah, ok. Una benda, meglio. È arrivato il momento di aprire quest'altra porta, ragazzi. Ecco. Le chiavi, le chiavi. Nel cassetto non ci sono le chiavi. Dove saranno mai state messe? Queste chiavi. Non so se devo tornare indietro. O sono state messe qua dentro, per caso. No, no. Niente da fare. Non lo so. Forse devo tornare indietro, ragazzi. Però... Cioè, dove altro possono essere state messe queste chiavi? Ok. Lee? Sì. Non sei male, certo? Ehm... Non mi chiedi così. E' complicato. E' complicato. E' complicato. E' complicato. Porca paletta. Oppure... Clem ha sentito sta cosa. Ok. Che sarà successo? Sì. 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 Bene. Bene. Non sembra troppo male. Sì. Aspetta. Ok. Quindi possiamo scegliere di avvisarla quando vogliamo andare. Ma... Mi sto chiedendo, ragazzi, allora, queste chiavi dove le dobbiamo trovare? Non credo che siano qua fuori, ragazzi. Perché se no... Le avrei trovate. Non credete? Io penso di sì. Io ancora non ho guardato, ragazzi. Magari... Le chiavi sono qua. Ma che spiritoso. La fotografia qua. Ah, queste vabbè, già le avevamo viste. Ragazzi, a me sembra che... Qua per terra... Uh, un'altra batteria. Non ci avevo fatto caso. Adesso possiamo metterle alla radio. Immediatamente. Così vediamo se c'è qualche altra notizia. Cioè, riusciamo a sapere qualcos'altro riguardo il mondo là fuori. Grazie. Grazie. E qui c'è un altro. Deve essere capito di riuscire a lavorare ora. La esaminiamo? Sì. Non posso capire. Devo guardare quella cosa. Andiamo. Ma questa non sapeva manco che cosa sono due batterie. Fatemi controllare perché non si sa mai. Mi sa che le ha messe al contrario. Perfetto. Adesso sì. Adesso dovrebbe funzionare. Proviamo. Vediamo un po'. Ecco qua. Minchia hanno attaccato pure la stazione radio. Vabbè. Allora ragazzi. Io qua dentro alla farmacia le chiavi non le trovo. Quindi... Tanto magari andiamo a salvare Carly. Eh... Andiamo a salvare Glenn. Pronta ad uscire? Sì. Andiamo. Che gioia. Arrivare fino al motel a piedi. Ci sono gli zombie dappertutto. una miglia. Una miglia. Benissimo. Siamo riusciti a salvarci le chiappe ma adesso... Dov'è? Ah è lì? È lì? Oh no. Ah pensavo ci si fosse... Ah ecco il fatto. Oh no. Ah ecco il fatto che sei qui. E' l'ioscente di Glenn. Ah non è così difficile. Possiamocire qui prima di queste cose che ci riconosce? Ma ancora. Abbiamo un attenzio che qui. Non c'è. Che ci sono stati di andare. Ora! Ho sentito qui qui per il gaso e poi... Qui c'è? È una ragazzina. E abbiamo parlato da dentro. Abbiamo parlato e lei è fuori. Io cercano di entrare in e chiedere. L'abbiamo a risolto e lei stiava chiamare che io sono stato di biti. Ho cercato di convincere che non ero, e così è che tutti questi ragazzi venivano fuori dalla foresta. Un'altra parte mi ha già fatto, e ho finito in la macchina di acqua. È vero che tu, ora andiamo. Non possiamo solo lasciare. È vero che possiamo. Voi ragazzi sono suicidali. Per una ragazza. Io la salvare, con o senza te. Pensi se fosse te. Ok, andiamo a salvare Glenn's damsel in distrazione. Bisognerà ovviamente stare attenti a non farsi beccare. Ce ne sono diversi eh. Quanta gioia. Ok ragazzi, allora dovrebbe avermi salvato la partita qui. Ovviamente mi auguro di sì, è uscito il simboletto dell'autosalvataggio. Quindi di regola dovremmo riprendere da qui la prossima volta. Che dire, che ogni volta ragazzi poi le situazioni si complicano. Soprattutto quando si incontrano altre persone. Perché prima abbiamo avuto problemi con Hershel, è successo un macello. Adesso siamo in un gruppo di persone ancor più numeroso. E quando ci sono tante teste, poi inevitabilmente ragazzi si creano conflitti, scontri e tutto il resto appresso. Sicuramente si creeranno altre situazioni spinose. Soprattutto con teste di rapa tipo Larry o la figlia che anche si è comportata un po' la stronzetta. Quindi dovremmo fare attenzione. Anche perché, vedete, si uno dice andiamo a salvare un'altra persona. Però, cioè, non sai, non potrai mai sapere del tutto chi ti stai mettendo nel gruppo. Purtroppo in situazioni simili ragazzi è difficile riuscire a fidarsi completamente di qualcun altro. Eh, purtroppo, purtroppo è così. Quindi niente, vedremo la prossima volta se riusciremo a salvare questa ragazza e la conosceremo, vedremo chi è. E poi suppongo che ritorneremo alla farmacia, anche se mi sto ancora chiedendo dove diavolo siano queste benedette chiavi. Perché in effetti Larry è ancora lì che si tiene il petto in preda a una sorta di attacco di cuore, diciamo così. Probabilmente sarebbe già morto nella vita reale, ma vabbè, sono dettagli. Come sempre ragazzi, se avete suggerimenti o pareri, li aspetto qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Updash a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!